Ragazzi, allora, per la CNC, Carlos, che si era, aveva visto Lego, per farsi crescere tutto bene, qua e fa il figone, ora guarda, per fare il camson, Jameson, vai, vai Carlos, forse devi farlo da sopra, esatto, ok, adesso, oddio, vai Carlos, non avrei paura, ok, ma vedete, quando ci ho messo, è fatto così, è arrivato un momento di lavoro, no, 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 vuole da bere, ah, eh, sì, permesso, il sfidenctor, guarda, rispettatamente, dai, ora è il noise, è meglio, perché non mi Palla, ragazzi, come i balazzi, veniamo i busчик-balazzi, due secondi me l'abbaggamento, si sa dalla barba di tappos addio la pezza esatto col piscino con la docena non c'è madonna ci voleva ci voleva ci voleva la lama di precisione per me quello tuo padre ma che non 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 non